amici di monolite inauguriamo un nuovo percorso dedicato ai professionisti della salute ma prima mettete il mi piace sulla pagina di studio monolite di monolite notizie e di monolite magazine la professionalità è importante in tutti i campi ma nel campo della salute nel campo medico vi salva la vita o quantomeno ve la rende migliore abbiamo aperto le porte della redazione a tanti medici per darvi la possibilità di avere i loro consigli professionali dall'osteopata all'oculista dal medico estetico fino al ginecologo e tantissimi altri ci saranno una carrellata di professionisti che metteranno a disposizione la loro professionalità al vostro servizio fateci le domande a cui volete ottenere una risposta noi le rivolgeremo ai medici di studio monolite a